ciao secondo 11 kill si bravissimo ti faccio un bel video come ti puro della scena mi puro se tu vincisci a partire il video comincerà o mi puro della scena guarda che ti vuole buttare giusto stronzo eh non c'è più mazzo e non pu' più sta lì non pu' più fa niente bellissima sharky sto che è 140 vats grande bello bellissimo bravo 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 guarda quando sa che faccio il video faccio questo 12 kill come è che ho fatto s arriva l'altro un gioco grande grande andiamo con il tax e raga un po' di centinaio di un mero ma non c'è un po' 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 marco provato quando è un primo dato nato portico se c'è la chiave andiamo da me il segno anlemme se non voglio usare dell'azione con lecce qualche e costruzione che ho fatto balla l'ho fatto con la stampa la popola è morto è morto è morto io mi più le mani per me per me non c'è posto ho preso la nuova consente al sole di cosa vi dico se si chiede i compagni c'è lasciato a me a buon giorno il cavo visto che non abbiamo niente chiede ma noi che c'abbiamo che noi che c'abbiamo che quattro è preso tutta la roma ma che staglia di enti se siete siete ma tu sei ass un sacco ho lasciato la scheda dalla d'avanti io ho lasciato la scheda dalla d'avanti si voglia di cuore 2 giasso o e poi dice me e poi dice me guarda che fa lì si si ma non imparare questo perchè se io lo faccio poi tu lo fai non sei come se disi non mi viene guarda sta piangendo sardio arrivi dai le cose non sta piangendo non sta piangendo adesso ne stanno con colpi a ricaccio non ce l'ho cercato colpi voi vieni qua che vieni qua vieni qua vieni qua che vuoi allora tutto vedo questo metraietta e assalto voi pure a me mi servono c'è l'84 buongiorno si è fatto lo splash da solo no con buongiorno mi sono fatte aspetta c'è due bix buongiorno si è fatto i big da solo mi prendo a stare a guardate che ho portato a testo non sono arrivato si stanno qua stanno qua stanno qua due 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 qua no ma dove aspetta che qua dietro la maio le mani a casa da quando l'ho preso le mani scusi le mie so sono le mie manine cazzo ahahahah non mi sono città colpato quando lo prese ma affatto non ci credo che mafattica va bene da che succede c'è un altro un altro un altro due 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 meglio oh 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 manini amba li sto distruggendo ma non ho aiuto oggi no 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 dietro buongiorno ecco la dietro e che buongiorno dietro ma è morto e morto no questo è un altro questo non farò e questo non è stato grande sciarchi grandi sciarchi daccevita salvaci 18 ehm 16 18 18 18 19 19 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 non si chiama, si chiama palcini vai stringi, salta hai sticato, tieni le mani no ma devo stare un attimo più lontano aspetta aspetta dobbiamo andare sotto, prendiamo un colo non ce la fa non ce la fa più qua sotto hanno luogo ah beh si scarsa stringi si scarsa io, non sai sparare le manini cazzo 10 sento che non sai saltare portami coltini, non d'occoli così via o qui ci sono i rift andiamo a teeri 8 kg io manco una riga non va bene io salto io andiamo a 9 le son 10 io ne vedo 10 io ne vedo 8 3 bonjour 3 bonjour ho fatto qualcosa io ho fatto un cazzo ah vabbè ma ero morto l'altro dove andiamo raga? siamo rimasti in 22 cazzo guarda la safe guarda la safe andiamo guarda la safe quante piccola raga guarda la spazio 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 oh che mi stanno sparando mi stanno sparando ecco qua ecco qua già rompermi il trazzo non c'è più mazzo il bianco è bianco è bianco è bianchissimo se sta cura se sta cura se sta cura se sta cura ho cascato in testa se al giorno ho preso da uno e con altro che arriva e bianco e bianco non c'è questo non c'è mazio sto scello dove non c'è un marzo su ciò si parla cura oa fuorica ricaccia di guarda buona questa macchista per farla buona giornata e colpa un po' l'altro colpi pompa del giro grazie un bianco 12 scherzio di borgio fatto doppio 24 acquisti in questo caso non sono un sacco di corretta l'ultimo io ho scopo tutto ho scopo ho scopo ho scopo quando la mano ascesa ha preso la borsa non non è sceso eccolo la sopra 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 8 l'ultimo 4 4 4 4 4 5 no da dietro ma patria non so da dove mamma fatto ce l'ho fatta fino al momento il primo con i miei finiti piaccia lo questo facciamo un sacco di cura adesso non c'è un occhio il carico io ho vendito vendito aspettati carico aspettati carico carico c'è un po' 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 grazie a tutti ecco lì al benzinaio potere di volvere l'ho distrutto ho distrutto quello con i poteri di volvere o c'è qualcuno che sta sparata dietro 31 se ci scegliamo conti morto e botti si tenta marco l'avvento un po' di marco non ci credo ma fatto 200 papa fanculo genui comunque uno sotterra sono morto quattro volte sta partire per gli anni è possibile grande se ecco se non si fa ancora amore cazzo parlo c'è anche messo carico e no non lo fa il più forte ho paura che ho paura di perdi ho paura di perdi sacrificati lo so che c'è guanti di volvo ha detto anche che c'è guanti di volvo lo so lo so lo so portano o no un po' della scena tra i miei mondiali per l'occhio per l'occhio per l'occhio carica la vita lo so lo so questo è tutto il video fatto lo sai il l'epoca per l'occhio per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua no 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 carico che prego sta salire per l'acqua c'è un modo carica calica di carica di carica non c'è più mazzo.it poi quanti dopo lui c'è un parabén ciao secondo 11 kill si bravissimo ti faccio un bel video come ti puoi vedere la scena mi 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 puoi vedere la scena guarda che ti vuole buttare giù questo stronzo non lo so non c'è più mazzo e non puo più salire non puo più fare niente bellissima Sharki questo che è 140 vets grande bello bellissimo bravo così guarda quando sa che faccio il video faccio questo 12 kill l'hai fatta durare 22